Ci sono molte persone che si lamentano per il fatto che pensano che gli altri non riconoscono il loro vero valore. In realtà gli altri riconoscono ciò che noi siamo in grado di comunicare e i risultati dipendono molto dal tipo di comunicazione. Tenete presente, per fare un esempio, questo vale in tutti gli ambiti della nostra vita, nella vendita ad esempio ci sono casi in cui il prodotto è lo stesso, la fascia di utenza è la stessa, i venditori però sono diversi e i venditori diversi possono ottenere risultati completamente diversi, ad esempio una persona in un mese può fare dieci volte gli ordini che fa l'altro sempre nello stesso periodo, con lo stesso prodotto, con la stessa fascia di utenza. Ora, perché capita questo? perché i due venditori comunicano in modo diverso e quindi vengono percepiti in modo diverso e il loro prodotto viene percepito in modo diverso, per cui uno vende dieci volte tanto l'altro. Ma lo stesso potrebbe dirsi nelle relazioni sentimentali, ci sono uomini e donne che pensano di essere belli, affascinanti, sexy, eppure non riescono ad avere una relazione né stabile né instabile, vengono scartati, non vengono presi in considerazione, oppure riescono ad ottenere molto parzialmente ciò che vorrebbero. Altri invece che non sono così belli, sexy e acculturati per dire, eppure riescono a coinvolgere, riescono a sedurre, riescono a realizzare i loro obiettivi in campo sentimentale. potremmo andare avanti all'infinito. Questo per dire che se crediamo che il nostro vero valore non si è riconosciuto, abbiamo sbagliato modo di porre la domanda, perché non è che il nostro vero valore non è riconosciuto, siamo noi che non siamo in grado di comunicare al mondo qual è il nostro vero valore. Per cui è l'ora di finirla, di prendersela con gli altri, perché non serve a niente. Cioè nel momento in cui io me la prendo con un altro, se la colpa è dell'altro avrò ben poche leve su cui agire. Invece se inizio a pensare che sono io che posso migliorare la mia comunicazione, non devo svilire a me stesso, perché non è che è colpa mia perché io sono sbagliato. È semplicemente che sto comunicando male e la comunicazione è una variabile che può essere migliorata. Quando parlo di comunicazione parlo ovviamente di comunicazione a 360 gradi, parlo di comunicazione comportamentale, non verbale, cioè non è soltanto quello che dico a parole. Quello che dico a parole è una piccola parte del complesso della comunicazione. Quindi se voglio migliorare la mia capacità di comunicare devo innanzitutto basarmi sui risultati che ottengo. È inutile che una persona mi viene a dire ah io sono bella, sono sensuale, sono intelligentissima e seducente, però gli uomini mi scartano, non vogliono stare con me o comunque sono tanto di passaggio. Perché vuol dire non rendersi conto della realtà. Sarò sicuramente bella e attraente, però non sono in grado di trasferire, di comunicare questa cosa. Quindi dobbiamo concentrarci sulle risposte che otteniamo, non su ciò che crediamo di comunicare. La risposta è il vero valore della realtà soggettiva, perché altrimenti mi creo una realtà fittizia che non viene condivisa dagli altri. La realtà è sempre soggettiva, non esiste una realtà soggettiva, ma la soggettività è la percezione che ottengo dalle altre persone. Quindi devo agire sul tipo di comunicazione che metti in atto, curando soprattutto quella non verbale, rendendomi conto che se non entro in empatia, se non riesco a cogliere quelle che sono le esigenze emotive profonde delle altre persone, non otterò una corrispondenza. Verrò svalutato, non verrò giudicato per ciò che veramente sono e per ciò che veramente valgo. Quindi questa è la capacità. Però il punto di partenza deve essere che se non ottengo i risultati che vorrei ottenere, devo modificare il mio paradigma, il mio modo di comunicare, le mie strategie comunicative, soprattutto in ambito emotivo. Perché significa che non so entrare in empatia, in emotività con le persone che mi interessano, non so creare di emotività. Per quelli che devo agire, se voglio migliorare e modificare i risultati ed essere valutato, diciamo, ed essere giudicato per il mio vero valore, affinché mi venga riconosciuto il mio vero valore dagli altri. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao!